Salve, sono Lia Di Giglio, sono una psicologa e ho una formazione in ambito psichiatrico. Oggi ho fatto un intervento al Corso Internazionale di Psicologia Criminale e ho parlato della manipolazione affettiva e del disturbo narcisistico di personalità, perché questi due termini vengono usati continuamente dai mass media e spiegati molto poco. Ho visto che l'intervento ha fatto anche presa sul pubblico perché hanno avuto più chiari quegli elementi che gli permettano di individuare cosa si intenda per manipolazione affettiva e come riconoscere un disturbo narcisistico di personalità. È stato un piacere poter intervenire a questo evento e spero di vedervi alla prossima edizione. Grazie 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 Grazie